Non abbiamo neppure letto gli atti a cena, ci hanno consigliato di derubricare il reato. A dicembre scorso i 19 imputati furono assolti dal reato di avvelenamento delle acque, mentre per il disastro ambientale la Corte disse che fu disastro colposo. Sono le dichiarazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano della giuria popolare. Si parla della sentenza di bussi, la discarica che per anni inquinò le falde acquifere. Oggi saltano dalla sedia tutti gli ambientalisti che si erano battuti per la causa scoprendo dalle dichiarazioni pubblicate dal Quotidiano che i giudici popolari non ebbero neanche accesso agli atti prima di esprimere il loro giudizio in merito alla sentenza. Quello che è emerso oggi da alcuni quotidiani è che ovviamente va tutto accertato e verificato e per questo abbiamo depositato immediatamente un'interrogazione urgente al Ministro della Giustizia per chiedere un'ispezione proprio su questa vicenda e su quello che è uscito fuori. E' di una gravità assoluta. Se anche soltanto un decimo di quello che è riportato fosse confermato non ci troveremo di fronte a una sentenza stravolta al fatto che la magistratura non è più quell'organo che garantisce il diritto o comunque tutela gli interessi dei cittadini e garantisce appunto la certezza del diritto. Ad esporsi in prima persona il parlamentare Gianluca Vacca che chiede un'immediata interpellanza per portare alla luce la verità sui fatti raccontati dal Quotidiano che metterebbero in forza la soluzione definitiva. Qua parliamo di pressioni appunto sulla giudizia popolare parliamo di richiesta di visionare degli atti che non sarebbero state consentite parliamo di camere di consiglio cioè le decisioni sono state prese intorno a un piatto di maccheroni o comunque sono state prese in maniera conviviale non con tutto l'accertamento e con l'integrità che una situazione del genere avrebbe richiesto. Tutta una serie di situazioni che vanno assolutamente verificate per questo appunto noi chiederemo spiegazioni chiederemo un ispezio e una ministra della giustizia.